Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, siamo al Mobile World Congress 2017 di Barcellona che si sta finalmente per concludere, questo è il nostro ultimo giorno, ma noi siamo instancabili e continueremo a farvi vedere un sacco di prodotti. Siamo infatti allo stand di Samsung per provare il nuovo Galaxy Tab S3 e Galaxy Book, Book, punto. Andiamo subito a vederli. Galaxy Book è un convertibile, un 2 in 1 con Windows 10, processore Intel Core di settima generazione e display da 10 e 12 pollici. È dotato di tastiera e della nuova S Pen, entrambe incluse nella confezione. La penna in particolare è adatta sia a disegnare che a prendere appunti, ma soprattutto reagisce molto bene alla pressione, infatti quando provate a scrivere se calcate il tratto sarà più marcato. La cover può assumere invece tre posizioni per adattarlo all'utilizzo che ne vorrete fare. Samsung Galaxy Tab S3 invece ha uno schermo da 9.7 pollici Super AMOLED e processore Snapdragon 820. Come il suo fratello maggiore supporta la riproduzione di contenuti in HDR e l'uso della S Pen. Mi è piaciuto in particolar modo il design, molto pulito ed essenziale. Nel caso di Tab S3 la tastiera con cover non è inclusa nella confezione. Fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovi prodotti Samsung, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!